Ciao! Una collezione di barzellette che spaziano dall'umorismo sugli animali a giochi di parole esilaranti. Sei pronto? Che cosa fa una mucca di legno? Il latte compensato! Un uomo al suo amico. Sai, ho provato a fare un incrocio tra un colli ed uno spinone. E cosa ne è uscito? Un collione! Devi mettere una giraffa in frigorifero come fai? Apri lo sportello del frigo e la fai entrare. E come fai a mettere un elefante nel frigorifero? Apri lo sportello del frigo, fai uscire la giraffa e fai entrare l'elefante. C'è una riunione tra tutti gli animali. Chi manca? L'elefante che è ancora chiuso dentro al frigo. Devi passare un fiume dove vivono moltissimi coccodrilli come fai? Lo passi tranquillamente. I coccodrilli sono tutti alla riunione degli animali. Una scolaresca visita una fattoria. Chiede il fattore se qualcuno sa dire quante mucche ci sono nel campo. Pronta risposta di un alunno. Le mucche sono 898. Il fattore sbalordito chiede. Ma come hai fatto ad indovinare? Semplice. Ho contato le zampe e poi ho diviso per 4. Qual è lo sport preferito dalle api? Il pungilato. Un allevatore va in discoteca e comincia a ballare. Ad un certo punto gli si avvicina un tale che gli fa. Che ce l'hai un po' d'erba? Sì. Perché pure tu c'hai l'iconigi?